Accusato di violenza sessuale insegnante ai domiciliari, incidente sulla statale 626 all'altezza di Capodarso, sale a 2 il numero dei morti, Caltanissetta consiglio comunale monotematico sul debitoato l'11 ottobre alle ore 17, San Cataldo fervono i preparativi per la festa patronale del Santissimo Crocifisso. Ben trovati studio con l'edizione di oggi del telegiornale, apriamo parlando di Cronaca, accusato di violenza sessuale su una studentessa insegnante agli arresti domiciliari, dettagli nel servizio. Avrebbe pronunciato frasi inopportune, poi avrebbe toccato il seno di una alunna undicenne che scossa da quanto accaduto si sarebbe rivolta a giugno scorso ad una sua insegnante, ai genitori e poi insieme a questi ultimi alle forze dell'ordine. A essere agli arresti domiciliari è un docente di scuola media a cui è stato contestato il reato di violenza sessuale sul minore sulla base della misura cautelare eseguita dagli uomini della squadra mobile della Polizia di Stato di Caltanissetta, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Nisseno su richiesta della locale Procura della Repubblica. Dal racconto della undicenne ha poi avuto seguito una delicata attività di indagine e l'ascolto della vittima alla presenza di una psicologa esperta, come voluto da parte del GIP in sede di incidente probatorio. Ad essere ascoltati anche i compagni di classe, così, visti gli esiti delle attività investigative della Polizia di Stato, e il Pubblico Ministero ha richiesto la misura degli arresti domiciliari per prevenire l'eventuale ripetersi di episodi come quelli che sono la base di questa vicenda processuale di cui si attende l'esito. E torniamo a parlare dell'incidente sulla statale 626 all'altezza di Capodarso. Sale a due il numero dei morti. È deceduta la 72enne, è arrivata ieri in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia. Vittime, insieme ad altri due feriti, ora ricoverati all'Umberto I di Enna, salgono così a due le persone morte per l'incidente che si è verificato ieri dopo le 16 sulla strada statale 626 in zona Capodarso, a morire anche il conducente del mezzo articolato che dopo l'impatto con le due auto è precipitato giù dal viadotto. Immediati soccorsi sul luogo, intervenuti sul posto anche il personale ANAS che ha provveduto a ripristinare la circolazione. Via libera dall'assessorato regionale per la salute al nuovo percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale per i tumori della mammella. Il documento realizzato dalla Commissione Senologica Regionale e dal Dipartimento per la Pianificazione Strategica segue un precedente protocollo dell'aprile 2019 e introduce importanti novità. Tra queste l'uso di farmaci oncologici di ultima generazione nei settori della radiodiagnostica, della chirurgia, della radioterapia e della chemioterapia. Oltre a nuove strategie di cura anche per le pazienti metastatiche con aumento delle aspettative di vita. Si introduce l'umanizzazione delle cure, che comporta anche la relazione tra sanitari pazienti e familiari, l'attenzione al comfort degli ambienti e i processi organizzativi, la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni, la presenza di uno psicologo con competenze in ambito oncologico all'interno del team o in service. Ogni anno in Sicilia vengono diagnosticati oltre 3.400 nuovi casi di tumore della mammella, che si conferma la neoplasia più frequente nelle donne con un'incidenza di 134 nuovi casi ogni 100.000. E cambiamo argomento, parliamo del Consiglio Comunale monotematico sul debito Ato. L'11 ottobre alle ore 17 nella sala consigliare del Palazzo Municipale si discuterà di debito Ato. La richiesta di un consiglio era stata avanzata dal sindaco Roberto Gambino e dall'assessora Luciana Camizzi, assessore al bilancio, per affrontare la tematica e dare eventuali chiarimenti sul debito Ato per l'appunto. Dopo la conferenza infatti dei capigruppo è stato convocato un consiglio comunale monotematico in adunanza aperta. La mancanza del numero legale comporterà la sospensione della seduta per un'ora e una volta ripresi i lavori, se dovesse mancare ancora, la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora. Anche i cittadini potranno prendere la parola dunque durante il consiglio monotematico in adunanza aperta inviando una mail all'inghirizzo ufficio.presidenza-comune.caltanissetta.it entro questo sabato 8 ottobre alle ore 14. Giuseppe Provinsano è stato confermato alla guida del nursing di Caltanissetta. Il sindacato delle professioni infermieristiche, Ignazio Curto, prosegue l'attività di segretario amministrativo. Sono 11 componenti del direttivo territoriale eletti e il risultato del rinnovo degli organismi locali del sindacato in vista del congresso nazionale che si terrà a Roma il 5, 6 e 7 dicembre. Gli 11 eletti sono Giuseppe Provinsano, presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela, Ignazio Curto, distretto sanitario di San Cataldo, Andrea Maira del presidio ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta, Orazio Maganucco, presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela, Massimo Pepe del distretto sanitario di San Cataldo, Salvatore Disca, distretto sanitario di Gela, Pittiani Scemi, Patrizia Messina, presidio ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta, Nicola Cirafici, sempre del presidio ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta, Domenico Filippo Corfu, del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela, Gaetano Butera, del presidio ospedaliero Santo Stefano di Mazzarino, Filippo Quarto D'Angeli, presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela. Il nursing, in vista della firma sul contratto nazionale, ha ribadito che come sindacato rivendicheremo sempre il mandato che infermieri e personale sanitario di questo territorio, mandato che hanno deciso di affidarci. E adesso cambiamo ancora una volta argomento, parliamo del percorso ciclabile ultimato, il primo realizzato in città. Terminati i lavori di realizzazione dell'ultimo tratto di pista ciclabile cittadina in zona Bloi, che costeggia le vie Bloi-Mattarella, Pinelli-Averna e Vassallo, le piste ciclabili rientrano nell'obiettivo di diffondere la mobilità sostenibile, l'uso comune della bicicletta come mezzo di trasporto urbano e veloce, economico ed eco-friendly. Viene sostenuto in moltissime città, su tutto il territorio nazionale. Quando parliamo di mobilità sostenibile, indichiamo quelle modalità di spostamento in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati da veicoli privati e quindi l'inquinamento atmosferico ed acustico, come anche le conseguenze della congestione stradale e dell'incidentalità. Questa pista ciclabile che è stata di recente realizzata fa parte di una programmazione più ampia di quelle che sono le previsioni della mobilità dolce all'interno della nostra città. Ad esempio in questo momento si sono già avviati lavori relativi alla realizzazione della pista ciclabile che collega Caltanissetta con Enna. Attualmente i lavori si stanno svolgendo ad Enna, ma al più presto partiranno anche quelli per la realizzazione di una pista ciclabile che va dalla stazione ferroviaria centrale attraversando tutta la via Rochester fino ad arrivare alla zona di via dei Giardini. Questo farà sì che la conclusione dell'attuale pista ciclabile si innesterà con la nuova creando un unicum anche continuo tra le due piste stesse. Ci spostiamo a San Cataldo. Fervoni preparativi per la festa patronale del Santissimo Crocifisso parla padre Alessandro Giambra. La città di San Cataldo si prepara a celebrare la festa patronale del Santissimo Crocifisso. Domenica 9 ottobre infatti la cittadina sancataldese sarà inondata dal suono festoso delle campane intorno a mezzogiorno e poi dopo la Santa Messa delle 18 in presenza anche delle autorità civili e militari avrà inizio la processione che terminerà con la benedizione della città. L'apertura del reliquiario dei Santi e l'intronizzazione del Santissimo Crocifisso sono stati due momenti che hanno dato il via ai festeggiamenti nella Chiesa Madre domenica 2 ottobre. Subito dopo è stata celebrata la Santa Messa alla quale hanno partecipato anche molti nonni insieme ai nipoti essendo il giorno a loro dedicato nonché la festa degli angeli custodi. Da giovedì 6 ottobre comincia il triduo di preparazione. Ci sarà ad esempio la Via Crucis venerdì animata dal coro parrocchiale Ecclesia Mater e infine sabato si prevede anche un momento di condivisione in parrocchia. La Chiesa Madre San Cataldese infatti in questi giorni pensa anche all'accoglienza con l'arrivo di un gruppo di 10 persone, donne e bambini provenienti dall'Ucraina. A luglio io sono andato fino a Leopoli e lì in Bologna avevo incontrato un sacerdote che è venuto qui che è responsabile dell'accoglienza degli ucraini e abbiamo fatto questo ponte che noi prendiamo e loro individuano delle persone che ormai hanno la casa distrutta che sono persone che devono ricostruire la loro vita. Faremo prima un momento di accoglienza anche con la lingua, dei corsi di lingua e poi nel giro di qualche settimana li inseriremo nel contesto lavorativo. Accanto alla matrice c'è il collegio di Maria che c'erano delle sore, quindi c'erano tante camere e l'abbiamo ristrutturati per l'accoglienza e proprio quello che vuole il Papa, questi luoghi con tante volte vuoti che non servono a niente invece diventano luoghi di solidarietà, di vicinanza e penso che sia la cosa più importante anche di questa festa che si trasforma in vicinanza e in solidarietà ai crocifissi dell'umanità. E ancora San Cataldo, è tempo di fiera, il tradizionale appuntamento di ottobre quest'anno inizierà venerdì 7 fino a martedì 11. Comincerà venerdì 7 ottobre la fiera San Cataldo, per 5 giorni infatti fino a martedì 11 ottobre la zona di Santa Germano ospiterà le bancarelle e le giostre, interessando anche parte di Viale dei Platani e Viale dei Tigli. Stamattina insieme alle organizzazioni di categoria siamo finalmente giunti alla definizione di tutti i dettagli per la collocazione nei prossimi giorni delle bancarelle e degli spettacoli viaggianti, scrive sui social il primo cittadino San Cataldese. Un lavoro durato mesi che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, uffici comunali, attività commerciali e associazioni di categoria. La scelta del sito era stato infatti un tema dibattuto nei mesi passati, avendo optato per una zona diversa da quella in cui la fiera si era svolta negli anni precedenti per motivi legati alla viabilità e alla sicurezza. Intanto la città attende questo momento di festa dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia e stando alle graduatorie pubblicate sul sito del comune sarebbero un centinaio gli operatori. Tra giostre, settore alimentare e non, le cui stanze risultano ammesse che dunque dovrebbero prendere parte alla manifestazione. Arriva una nuova opera nel quartiere Angeli di Caltanissetta, grazie all'iniziativa Mi prendo cura di te. Prende forma il nuovo murales che aggiungerà ancora colore e arte nella zona Angeli di Caltanissetta. Verrà inaugurata infatti venerdì 7 ottobre una nuova opera. Un'iniziativa dal titolo Mi prendo cura di te, l'arte contro il degrado, l'arte a favore della salute. Promossa da Progetto Luna, che quest'anno celebra i suoi 20 anni e che vede anche il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto. Abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo incontrato Lorenzo Giulla e abbiamo visto anche le cose che ha fatto precedentemente. Ci ha legato quella sana follia che è la sua, quella di riqualificare un quartiere e donarla agli altri. La nostra è quella sempre di continuare ad agire per la tutela della salute e quella dei più fragili. Abbiamo voluto farla ad ottobre per il mese della prevenzione. Noi facciamo il ventennale a maggio, però qual'occasione migliore per rivolgerci alla popolazione e dire che la prevenzione e la diagnosi precoce principalmente ti può salvare la vita. I ringraziamenti sono molteplici, però lo diciamo a tutto il quartiere, ha voglia di crescere, ha voglia di imporsi, ha voglia di attirare l'attenzione in questa realtà che è bella del cambiamento di Caltanissetta, un po' quello che vogliamo noi anche in ambito sanitario e continueremo a spenderci per questo. E grazie al contributo dei soci di Progetto Luna abbiamo potuto finanziare questa opera e siamo felici di averlo a Caltanissetta e siamo felici venerdì di donare il tutto alla popolazione. Un ulteriore tassello dunque che fa parte di un più ampio progetto di Lorenzo Ciulla che ne cura la direzione artistica e che pensa ad un museo a cielo aperto. È un progetto che comunque ha preso vita nel 2017, nel 2021 arriva Ambience con un'altra opera e oggi con Progetto Luna e l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto arriviamo a realizzare l'ennesima opera. In realtà siamo arrivati a sette opere nel quartiere, è un'idea che abbiamo un po' da tempo, quella del museo a cielo aperto e grazie comunque a cittadini, libri cittadini e privati e denti pubblici in qualche modo si sta cercando di raggiungere l'obiettivo. Il progetto si chiama Mi prendo cura di te, vuole trasmettere un concetto che va l'arte contro il degrado ma in realtà anche l'arte a favore della salute. Il poligama che è l'artista che lo sta rappresentando sta andando a realizzare il mito e in qualche modo queste due statue che si abbracciano, allora prendersi cura degli altri è il concetto e il significato di questa nuova opera. Parliamo di teatro, tornano infatti gli appuntamenti di domenica pomeriggio a teatro, la stagione che comincerà proprio a fine novembre. Il diario di Adamo ed Eva con Corinne Clery e Francesco Branchetti, che ne cura anche la regia, aprirà la stagione teatrale 2022-2023, domenica pomeriggio a teatro. Lo stesso Branchetti tornerà poi per lo spettacolo finale, cose di ogni giorno, questa volta insieme a Danny Mendez, sempre nel dubbice ruolo di attore e regista. Tra i 12 spettacoli in programma fino a maggio ci saranno anche il siciliano Antonello Costa, ritornerà in città Danila Stalteri, che si esibirà con Gianni Ferreri, e tanti altri artisti provenienti da tutta Italia. La stagione inizierà il 27 di novembre e terminerà il 7 di maggio. Saranno 12 appuntamenti, 12 appuntamenti domenicali. La stagione viene chiamata domenica pomeriggio a teatro e siamo alla 24esima edizione. Sì, verrà fatta qui al Teatro Oasi della Cultura. Diciamo che finalmente apriamo il sipario e apriamo la stagione senza veti. Infatti gli spettacoli saranno tutti in presenza, non ci saranno distanziamenti, non c'è l'obbligo della mascherina, chiaramente chi vorrà portarla e metterla la metterà. Quindi dopo un'estate dove le piazze si sono riempite, speriamo di riuscire a riempire pure teatri in infernale. Gli spettacoli del Teatro Sabia e Nisseno regaleranno tante novità, ma anche uno spettacolo che è stato riproposto quest'estate al pubblico. Ora però muori, amore mio, con la regia di Antonello Capodici. Passiamo allo sport kart, quinta prova Trofeo Italia a Caltanissetta dall'8 al 9 ottobre. Nel weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre si terrà a Caltanissetta la quinta prova Trofeo Italia regionale circuiti cittadini di karting, dove si prevede una notevole presenza di pubblico, tra appassionati del settore e tra persone che vorranno semplicemente guardare. Si prevedono otto categorie di prove lungo il tracciato cittadino, che misura 835 metri, che partirà dalla via Salvo d'Acquisto e toccherà le vie Aldo Moro, via Palmiro Togliatti e via Don Minzoni, dove nel piazzale andistante la scuola Don Milani ci saranno i box. L'evento è stato realizzato in collaborazione con il comune di Caltanissetta e la federazione Sicilia Karting, con la partecipazione dell'azienda nissena Crio Jam, che vedrà 80 piloti circa darsi battaglia all'interno del circuito cittadino rinominato per l'occasione la piccola Monte Carlo del Kart. È un evento fortemente voluto da tutti gli appassionati di questo sport, è una manifestazione desiderata da tantissimi anni e finalmente grazie all'amministrazione comunale e alla federazione siciliana karting e siamo riusciti a svolgere al meglio una gara a carattere nazionale e regionale, quindi si svolgerà sia come trofeo Italia che prova di campionato regionale. E ancora calcio Serie D, sfortunata prova della San Cataldese sul campo della capolista Lamezia nel turno infrasettimanale. Per due volte in vantaggio i verdi amaranto vengono raggiunti e poi superati nell'ultimo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Risultato finale 3-2 per i Calabri, ma la San Cataldese esce a testa alta dalla partita affrontata con impegno e grinta. Primo gol della squadra di Matteo Vullo con Pizzi al sedicesimo, poco dopo il pari dei padroni di casa con Cadili. Nella ripresa al ventesimo d'agosto segna l'1-2 Verdemaranto, al ventiquattresimo il nuovo pareggio del Lamezia con Borgia e nel finale al cinquantunesimo gol vittoria dei Lametini con Frangua. Il risultato dunque della quarta giornata, Canicattì-Real-Aversa 0-1, Castrovilla-Riacireale 0-4, Catania-Vibonese 3-0, Sant'Agata-Trapani 0-1, Cittanova-Santa Maria 1-1, Lamezia-San Cataldese 3-2, Paternora-Gusa 0-2, Mariglianese-Licata 0-0, Locri-San Luca-Posticipo, la classifica dunque, Catania-Lamezia 12, Real-Aversa 10, Vibonese 7, Locri-Ragusa-Sant'Agata-Canicattì 6, Acireale-Castrovilla-Ritrapani 4, San Cataldese-Cittanova-Mariglianese-Paternò 3, San Luca-Licata-Santa Maria 1. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale, intanto vi lascio al meteo, le notizie di pubblica utilità, e come sempre grazie per averci seguito. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo, nella giornata di giovedì, Tempo sull'Italia continua a mantenersi stabile, all'insegna del bel tempo, proprio per effetto di un campo di alta pressione, che domina il Mediterraneo centrale, ma anche parte dell'Europa centro-occidentale. Infatti, dal punto di vista anche della nuvolosità, a parte qualche velatura di passaggio, il contesto rimane sempre ben soleggiato, salvo qualche possibile foschia o banco di nebbia, l'alba nelle zone interne del centro-nord. Infatti, osservando proprio quello che ci aspetta nel corso di giovedì, avremo una giornata all'insegna del sole, praticamente ovunque. Come dicevo, attenzione a qualche banco di nebbia o foschia nelle prime ore del mattino, nelle vallate interne del nord e del centro Italia, con anche qualche nuvola bassa sul Piemonte, verso il Friuli Venezia Giulia, ma poi in diradamento. Al sud, tempo soleggiato, qualche annuvolamento sul versante adriatico, clima che resta insolitamente mite, con punte vicine ai 25-27 gradi localmente sul comparto tierrenico, e zero termico che sull'arco alpino si mantiene attorno ai 4.000 metri. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Scarantino Via Paolo e Emiliani Giudici Servizio notturno Del Poggio Viale Luigi Monaco